Amici e guardoni della letteratura, ben ritrovati con un'altra micro recensione, questa cosa che mi sta piacendo tanto fare, anche perché la mia qualità di gioco scacchistico è recentemente precipitata, per cui mi occupo di altro. Qui oggi, in foto lo vedete, il nostro Leonardone Sciascia nazionale, qui oggi micro recensione del suo famosissimo romanzo, almeno per il titolo, a ciascuno il suo. Romanzo del 66, uscito per Einaudi, in A ciascuno il suo, Sciascia offre al lettore un giallo di ambientazione siciliana. Appunto, un giallo alla siciliana, cioè non ci si aspetti grande suspense, di suspense ce n'è poca o punta, non ci si aspetti, come dire, grande, non so neanche come esprimermi per bacco, grande palpo, una grande personalità dell'investigatore, non c'è nessun, non c'è nessun puerò, non c'è nessun tenente Colombo, c'è questo professor Laurana, professore di italiano e storia nel locale liceo, che indaga la misteriosa morte di due suoi concittadini, farmacista e avvocato. Il libro si apre con il farmacista che riceve una lettera anonima, nella quale è contenuta una minaccia di morte. Viene presa in burla la cosa, fino a che poi, durante una battuta di caccia spersi per i bricchi della Sicilia, il farmacista e l'avvocato vengono presi a luparate, a colpi di lupara, nelle reni. Dai e dai e dai, il dottor Laurana, il professor, anzi scusatemi, il professor Laurana, cominciano a dare insieme i fili, e non faccio grandi spoiler, perché questo è un giallo, quindi non ci sta a fare grandi spoiler, cominciano a dare insieme i fili della vicenda e va a pescare nel torbido, diciamo così, della società dei notabili della Sicilia. Ora, dicevo, il giallo è un giallo all'italiana, diciamola così, quindi non all'inglese, anche se c'è una certa fatica deduttiva e fatica argomentativa, anche abbastanza ben riuscita. Non ha il libro grande verve estetica, cioè non si perde, ciascia in grandi descrizioni di un paesaggio che delle descrizioni, forse un tantino più accurate, le meriterebbe, però con le sue brevi pennellate descrittive riesce comunque a rendere piuttosto bene una certa atmosfera, un certo clima, certi panorami tipicamente mediterranei. Il cuore, diciamo così, il cuore del romanzo, che tra l'altro non ha nemmeno un passo eccellente, cioè talvolta arranca forse un pochettino, ma il cuore del romanzo sta nei dialoghi, nei dialoghi che il professor Laurana fa di volta in volta con certi personaggi interessanti della cultura, dell'alta società siciliana. E mi pare che si possa dire, senza troppo tema di smentita, che il cuore di questi dialoghi sia una certa critica dei costumi, un certo mettere mano alla frusta morale, per scudisciare il malcostume siciliano e italiano, cioè quel familismo amorale che tende a privilegiare come dire, compagni, compagnozzi, parenti, tirapiedi, clienti, rispetto a un'equità pubblica, un sistema di burocrazia infinita, un sistema di assolute gelosie personali, gelosie del proprio grado, gelosie del proprio ruolo, non ci si può mancare di rispetto, il rispetto non è tanto dovuto, come dire, alla, 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 come dire, alla natura morale dell'individuo, il rispetto lo si deve perché uno ha, il titolo è colonnello, è maresciallo, è avvocato, è notaio, cioè tutte queste cose qui fanno di questo romanzo, io credo, sostanzialmente una intelligente, breve, sorridente anche, anche se il sorriso è amaro, si capisce, critica dei costumi. Il giallo ha però anche delle sue pagine proprio forti da giallo, come per esempio, spoiler qui, tappatevi le orecchie, come per esempio quando il professor Laurana sparisce e in un paragrafo che consta di tre, quattro righe, Shasha scrive che in realtà il professore non l'avrebbero trovato mai perché stava sdraiato sotto un mucchio di calcinacci in una zolfatara a metà strada tra il paesello dove abitava, dove si è svolto il delitto, insomma, da cui prende avvio il romanzo e il capoluogo dove era andato a fare le sue indagini. Quindi è un romanzo sicuramente che i suoi punti di forza ce li ha. Il titolo, o a ciascuno il suo, deriva dal fatto che nel retro della lettera anonima, che naturalmente non è scritta a mano, ma è scritta incollando parole ritagliate dal giornale, ecco, nel retro della lettera anonima, il professor Laurana intravede il latino uniquique, che vuol dire a ciascuno, ed è il motto che campeggia ancora oggi sull'osservatore romano, il giornale dello Stato del Vaticano. Uniquique sum non prevalebunt, a ciascuno il suo non prevarranno. E di lì appunto prendono le mosse, le indagini del Laurana. Ecco, diciamo, un libretto piccolino, gradevole, intelligente, arguto, uno potrebbe dire che è scritto molto bene o scritto molto male, a seconda del modo che ha di intendere lo stile, perché è un libro scritto in... è tipico della lettura italiana alta, questa cosa qui. Cioè è un libro scritto in un bell'italiano con periodi anche ampi, talvolta, come dire, un lettore non addestrato nella lettura dei testi più classici, più tradizionali, può fare fatica, può un pochettino perdersi in questo periodare molto qui e là anche un po' barocco nella sua sintassi, nella sua sintassi. Ma è un po' anche il bello, appunto, delle specificità locali, storiche, eccetera, della letteratura. Diciamo, io nella... e chiudiamo con la nostra valutazione, nella scala nostra di valori, da 1 a 5, io gli darei un 3. Quindi una piena sufficienza, è un libro che si legge tutto sommato volentieri, anche se talvolta cade un po', diciamo, non è una corda tesa, ha qualche curva un po' verso il basso, però ci sono parti molto intelligenti, molto ben fatte e sa anche far ridere, sa anche far ridere. Con quello, ripeto e concludo, con quello stile tipicamente agrodolce, che è, per esempio, appunto tipicamente siciliano, ma anche forse forse italiano, o almeno del... forse non dei nostri scrittori del nord, ma insomma abbastanza italiano. Sa far ridere nell'amara riflessione dello stato di, diciamo pure la parola per quella che è, depravazione morale italiana. Vi saluto carissimi, a presto e passate una buona domenica, mettete like e iscrivetevi al canale. Ciao!